video assolutamente molto importante questa volta ragazzi perché è un brand di cui vi parlo per la prima volta quindi sono veramente molto emozionato sinceramente e quindi veramente mi raccomando seguite tutto quanto il video perché è veramente molto importante vi ricordo come sempre di lasciare un like, un commento, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto perché è assolutamente importante anche quello allora dopo questa breve pausa per quell'intro che verrà tra poco vi parlerò di Squid di Zoologist una fragranza marina fuori dagli schemi state qui eh Benvenuti o bentornato a chi già mi conosce sono sempre Kevin e questo è il canale in cui parliamo di fragranze tutti insieme allora oggi questo video appunto ragazzi è veramente molto importante ci diremo a ringraziare tutte quante le persone che mi sono state vicine in questi ultimi giorni a causa appunto della mia positività avete visto però sono riuscito comunque a postare parecchio perché comunque il diciamo il peggio è passato molto in fretta per fortuna adesso sto meglio e quindi sono pronto più che mai a farvi altre fantastiche recensioni sulle fragranze di nicchia e non oggi andiamo a parlare di un brand che veramente ha un concept straordinario ovvero il fatto di ricreare odori di animali e dei loro habitat attraverso i profumi ovvero Zoologist e in questo caso vi parlo di questa fragranza marina fuori dal comune fuori dagli schemi per insomma per farvi un pochino rendervi partecipi appunto di un profumo che è comunque non molto diffuso in Italia non molto diffuso tra gli appassionati ma che giorno per giorno comunque tende ad affermare la sua importanza perché è un brand oltre che ad avere appunto questo concept è molto molto bello di ricreare con odori poi a volte anche magari po' meno indossabili rispetto ad altri gli odori degli animali e del loro habitat in questo caso Squid come avrete capito si ispira al mare e ai calamari allora noi andiamo ad aprire la scatola che è una confezione molto diciamo minimal che ha questa custodia in carta in cui qui dietro c'è scritta un pochino la storia del profumo e qui appunto ci parla con questo storytelling intanto la profumiera il nostro profumiere è Celine Barel eccola qui è un profumo appunto che si ispira a questa banda di calamari che emerge dalle onde dei calamari veramente molto grandi e non sono soli questi calamari dei predatori si fanno avanti per mangiarli e spruzzi di inchiostro vengono appunto lanciati da questi calamari contro i nemici contro i predatori poi un enorme capodoglio si tuffa lasciando una pace temporanea che ondeggia nella sua scia decenni dopo le liquide la battaglia riaffiorano grumi di ambra grigia espulsi dalla balena e levigati dalla corrente salmastra questa è un pochino la storia di questo profumo non è che me la sono inventata l'ho letta sul sito di qualche profumeria che sarebbe poi alla fine la traduzione di quello che è scritto qui dietro quindi vuole un pochino rappresentare questo ambiente marino ma non siamo in un marino come Megamare come Acqua di Sale come Black Sea di Lorenzo stiamo parlando di un marino molto più strano molto più particolare non che gli altri siano da meno ma anche questo marino vuole essere comunque un profumo indimenticabile perché questo profumo marino vuole raccontare una storia una canzone di mare malinconica raccontata attraverso salamoia piccante incenso inchiostro dolce e torbido il tutto unito dall'aroma dell'ambra grigia come le infinite profondità che lo hanno ispirato questo profumo è elegante e increspato di mistero dopo tutta questa manfrina però mi sembra anche giusto fare un pochino di storytelling andiamo ad aprire la boccetta le boccette sono le classiche di Zoologist con questa forma veramente molto strana però veramente molto carina e ve la faccio vedere subito eccola qui vedete com'è la boccetta più larga alla base e più fina verso la vetta e qui abbiamo un tappo con questa pelle con questo tappo dorato pesante magnetico no allora il liquido scuro che diciamo ci fa già presagire appunto questo senso di oscurità marina questo senso di veramente inchiostro di mistero e e appunto marino allora questo profumo ha un'apertura ragazzi che deve essere capita e cosa intendo per essere capita non è un profumo troppo immediato come si può pensare perché è un profumo che apre veramente in maniera fortemente animalica inchiostrata e l'opoponax abbiamo il benzoino l'ambra grigia il sale fanno immediatamente la loro comparsa appena noi andiamo a spruzzare questo profumo io me lo spruzzo no allora e quello che quello che emerge nell'immediato è proprio l'inchiostro l'ambra grigia che viene proprio in qualche modo tirata fuori nell'immediato l'incenso anche contribuisce alla diciamo profondità di questo profumo che nell'immediato è un po' conturbante è un pochino strano ma non meno buono perché è un profumo che una volta che voi che voi lo sapete apprezzare una volta che voi lo avete provato per bene per questo consiglio di provarlo prima di acquistarlo perché non sono profumi di facile diciamo di facile magari piacevolezza insomma sono profumi che vanno un pochino provati riprovati sulla pelle in determinate occasioni in determinate circostanze dopo che ve ne sarete innamorati lo vorrete anche voi oltre per la boccetta fantastica per la storia che c'è dietro questo profumo appunto spira tanto inchiostro una fragranza fortemente inchiostrata che vuole appunto andare a ricordare quello che è l'inchiostro di questi calamari l'inchiostro che spruzzano contro i loro nemici il sale l'opoponax che è una resina l'opoponax che vuole appunto rendere questa fragranza balsamica resinosa insieme al benzoino insieme all'incenso al pepe rosa che gli da un pizzico di diciamo anche di frizzante no frizzantezza no però comunque la speziatura del pepe si sente insieme a questo sale insieme all'inchiostro sono due tre ingredienti molto presenti insieme all'ambra grigia quindi una fragranza forte una fragranza che oltretutto è assolutamente di facile indosso alla fine perché non è un profumo difficile però quando dico non compratelo al buio è perché ha una sua particolarità e riesco a capire che può non essere nell'immediato una fragranza che piace però una volta che voi l'avete provata per bene secondo me potrebbe star bene in una magnifica collezione di profumi che contempla anche altri marini però un marino diverso da tutti quanti perché qui abbiamo un marino fortemente inchiostrato e una fragranza anche in apertura soprattutto animalica in qualche modo anche se le note animaliche dovrebbero essere date dall'ambra grigia quindi in sostanza l'apertura è un pochino difficile c'è un forte odore di inchiostro siamo proprio nel mezzo di questa battaglia che questi caramari intentano contro i loro nemici contro i loro predatori dopo un po' dopo che la fragranza si è in qualche modo assestata nel dry down invece diventa molto piacevole l'incenso non è una fragranza troppo incensata però questa unione di note inchiostrate incensate balsamiche animaliche fanno sì che questa fragranza sia veramente molto particolare con una durata sulla pelle veramente ottima e una scia anche nelle prime ore secondo me veramente niente male un profumo che dopo un po' di tempo che si asciuga dopo che le forti note si assestano un pochino diventa veramente molto piacevole da indossare ragazzi quindi è un profumo marino diverso una fragranza che per gli appassionati delle fragranze di nicchia marine può essere un un ottimo un ottimo acquisto vi faccio vedere la boccetta meravigliosa con questa juice questo juice scuro nero quasi un una un juice che vuole ricordare un po' diciamo questa profondità marina quest'acqua di mare sporca di inchiostro in qualche modo però ragazzi non posso che fare i miei complimenti al creatore di questo brand Victor Wong e al naso profumiere che c'è dietro ovvero Celine Barel per questa creazione magnifica perché è veramente veramente stupendo questo profumo se volete un profumo che ricordi il mare un mare scuro profondo tempestoso con una battaglia tra calamari e predatori questo è quello che fa per voi ragazzi provatelo perché è veramente magnifico ci vediamo al prossimo video spero di esservi stato utile anche con questo video e mi raccomando lasciate un bel like un commento ed iscrivetevi al canale grazie grazie grazie